Si era appena diffusa la notizia che in media sarebbe trasmesso in esclusiva questo documentario e la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella del generale Leonardo Tricarico, detto Dino che con la voce imperiosa che conoscete e sentirete mi ha detto «Telese, questa cosa del missile è una balla, quel documentario è una montagna di frottole e fantasie». E' convinto e sostiene anche qui stasera questa tesi con questa vemenza? Al netto dell'enfasi che lei ha messo, che io non ho messo, la mia voce è quella, ma l'enfasi non era quella sostengo esattamente questo, ossia sostengo che Ustica sia stata una gigantesca e perdurante missificazione della verità a danno della verità stessa e naturalmente del cittadino italiano che è stato sistematicamente per lustri disinformato e depistato rispetto poi a quello che non io, né i generali né altri, ma la magistratura hanno accertato come verità. Cari amiche, cari amici, curiosi, scettici e increduli, benvenuti. Quindi apriamo il 2022 con questo video che riporta l'intervista di Telese al generale Tricarico, intervista avvenuta nel 2016 e ho lasciato andare l'audio per far ascoltare chiaramente quello che dice il generale Tricarico e cioè, ed è una cosa molto importante, che alla gente sfugge è stata, come dice lui, depistata da trasmissioni televisive come anche questa, della quale poi lascio il link per far credere che si tratta di un missile. Ora andiamo avanti nell'ascoltare, ma la cosa che volevo farvi presente è che questo video vuol portarvi a fare una riflessione su un aspetto che tra poco vedremo e che ha certamente una sua interessante collocazione all'interno di tutta questa vicenda. Proseguiamo. Eccoci qui, abbiamo la prima apparizione e vi volevo richiamare, volevo farvi riflettere sul gesto, come per dire questa qui, questo qui è tutto, non dico la parola, avete già capito questo segno cosa vuol dire, e guardate anche la mimica facciale di scherno, di derisione, alle parole pronunciate dal generale Tricarico, potrei anche dire che quello che ha detto prima il generale Tricarico può essere ben riferibile a questo soggetto che appare a fianco di Delese. Proseguiamo. E qui c'è la risata di sfottio, come di quelle persone che credono di sapere tutto e sfottano gli altri che magari dicono una cosa che è diversa da quello che è la loro concezione. Tricarico dice che non c'erano aerei attorno al 19. Terese farà adesso vedere Non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Le faccio vedere se le c'erano a fare un documento della Nato, perché la Nato le sa, ha risposto a una delle tante erogatorie, ha fatto vedere questo elenco con tutti gli aerei che erano in volo della sera. Bene, su questo elenco ho già pubblicato un video, ormai l'anno scorso si può dire, ho già spiegato che questo elenco si riferisce non agli aerei in volo in quel momento, come viene sempre detto, ed è questa è una falsità, ma la Nato in questo elenco mostra, dà l'identità a tutte le tracce radar rilevate durante quel giorno appartenenti alla Nato. In questo documento ci sono alcune voci che sono chiamate sconosciuta che semplicemente non sono aerei non identificati ma sono identificati questi aerei ma il documento della Nato identifica soltanto gli aerei appartenenti alla Nato. cioè hanno chiesto alla Nato di questo tracciato quali sono i vostri aerei e la Nato risponde sono questo, questo, questo dove non sanno l'aereo di chi è scrivono semplicemente sconosciuto ecco che questa diventa una forma di disinformazione strumentalizzazione per dire ah ma c'erano degli aerei sconosciuti ora rendiamoci conto che un aereo sconosciuto e non ho preparato un video dove si vede ce ne sono comunque diversi dove si vede cosa succede quando un aereo sconosciuto entra nello spazio aereo di un paese per fare un esempio qualcuno sicuramente di voi si ricorderà di quell'Airbus dell'Air France che mi pare tre o quattro anni fa ebbe un guasto alla radio decollarono da Estrana due Eurofighter infrassero il muro del suono sulla Lombardia creando anche parecchi danni a terra e questi due caccia andarono a verificare questo aereo che tipo di problemi aveva perché in quel momento era diventato un aereo non identificato nonostante che si è avuto il Tasponder e così via hanno inviato lo scramble per verificare la situazione quindi questo scramble avvengono spesso non ne viene data notizia perché sono affari diciamo riservati però un aereo che è fuori rotta un aereo che non ha dato una risposta via radio perché appunto può avere avuto un guasto viene intercettato e quindi poi si viene di solito fatto atterrare come già successo per esempio al volo Ryanair che era stato intercettato e fatto atterrare poi in Bielorussia qualche tempo fa l'anno scorso proseguiamo è una specie di appello di una classe molto nutrita come vedrà ci sono alcuni che sono sconosciuti cioè non appartenenti al patto atlantico ecco queste qui erano le tracce che dicevo prima sono tutte conosciute semplicemente sono sconosciute alla Nato cioè non sono aeree appartenenti alla Nato di zombie lei si sente di negare che non ci fosse aeree in volo con tutti i giorni non ci crediamo nella zona dell'incidente non c'era nessuno e questo è una delle sacrosante verità commissione radaristica donati dalle Mese e Tiberio che interpellata ha dato il proprio risultato dell'analisi dei tracciati radar al giudice istruttore Rosario Priore giudice che inizia anche lui a fare le proprie apparizioni televisive eccolo qua e questo è il il fulcro il nocciolo del del video che ci fa un giudice anche se è in pensione sì libero cittadino ma dovrebbe essere so per parte di essere giudici e il mio pensiero è che non debba mettersi insieme alla personaggi che abbiamo visto prima e anche a personaggio che normalmente viene sempre accoppiato alla persona di prima che adesso vi faccio vedere eccolo qua così ci siamo siamo anche lui con la sua risatina diciamo date voi pure la vostra definizione di questo sghigno si potrebbe chiamare ecco lui ha brevettato ha inventato il missile lui nella storia di Ustica ha inventato il missile è stato il primo a parlarne poteva ancora avere una ragione di parlarne fin tanto che non si è recuperato il relitto e non si è andati a verificare con la commissione che poi il giudice istruttore priore ampia la commissione misiti viene istituita dal nominata da giudice bucarelli giudice bucarelli poi verrà a contrasto con il ministro dell'epoca pare che era amato se non erro e rassegna le proprie dimissioni per contrasti sulla metodica delle critiche che aveva ricevuto quindi viene nominato lascio a voi scoprire da chi giudice che prosegue l'inchiesta giudice priore il quale amplia la commissione misiti che eredita da bucarelli aggiungendo due esperti svedesi quindi di un paese neutrale che sono Goran Lillia e Gunval se il nome non me lo ricordo Gunval era un esperto radarista ho detto era perché è deceduto Goran Lillia era ingegnere è ingegnere aeronautico mi sono corretto perché è perché è ancora vivo è ingegnere aeronautico esperto di costruzioni aeronautiche Goran Lillia nel 2013 scrive un libro in inglese che viene tradotto in italiano nel 2014 scrive questo libro spinto dalla necessità di dire la sua su una vicenda della quale ha sempre sentito parlare di duelli aerei di missili e altre fantascienze di questo genere il suo libro si intitola Ustica il mistero e la realtà dei fatti ed è il primo libro anzi non sarebbe proprio il primo ma è molto interessante che uno straniero voglia esprimersi su una vicenda tutta italiana ha sentito la necessità di fare questo ci sono stati poi altri libri prima di lui ce ne sono stati un paio Goran Lillia un paio che si mettevano in dubbio la tesi del missile Goran Lillia è il primo che diciamo lo dice in maniera chiara quello che è stata la sua esperienza e si chiede come mai non è stato considerato il risultato della commissione Misiti quello che aveva la commissione Misiti aveva ricavato questa risposta ce la può dare giudice istruttore priore che evidentemente ha preferito imboccare un'altra pista investigativa cioè che è stata quella della collisione mancata collisione in volo nonostante le evidenze fossero tutte ad epporre per uno scoppio interno ora voi potete ben capire che se in un spazio aereo non ci sono aeroplani in uno spazio aereo intendo un raggio di 60 miglia nautiche rispetto attorno al 19 non c'è missile che fa una cittata così lunga volendolo anche ipotizzare se è stato lanciato e a quella distanza mi pare che c'era il Phoenix americano imbarcato dall'F14 che poteva riuscire a raggiungere un bersaglio così lontano quindi giudice priore non tiene in considerazione anche la pista investigativa perlomeno suggerita e indicata dai risultati di due commissioni che aveva lui stesso nominato cioè nominato una confermata e l'altra nominata e pensa si sia trattato di una mancata collisione notate che non è non è priore a parlare di missile di missile ne parla signore inquadrato a destra inizia a parlarne lui e continua ancora adesso a parlarne anche se con qualche piccolo ripensamento che va un po' più verso la turbolenza di scia lo scrive nella presentazione prefazione di un libro di un recente libro pubblicato sempre sulla base comunque assolutamente che esclude scoppio a bordo la realtà è che c'è stato uno scoppio a bordo e diciamo che questa cosa non è digerita assolutamente bene anzi è indigesta sia a questo signore che alla signora vista prima perché lo sia e perché non si voglia ammettere quello che è successo lo vedremo più in là ho già fatto un accendo nel precedente video l'ultimo uno degli ultimi del 2021 a uno scenario allo scenario internazionale che sta dietro questa vicenda e ho anche citato il libro di Zamberletti che è molto importante perché è un po' una guida che consente di destreggiarsi all'interno di questa enorme ingarbugliata matassa altrimenti detta ginepraio quindi la considerazione è che se un giudice vuole essere super partes non si mette in in abbinamento con persone che sono invece parti interessate a che venga mantenuta una certa linea di diffusione del pensiero sulla vicenda diustica e ora per concludere questo video vi faccio lo zoom su quella quest'asse del gabinetto tanto presa ad esempio di impossibile che sia stata una bomba quanto piuttosto è facilmente confutabile perché è l'unico pezzo rimasto in piedi integro della toilette e su queste immagini se vogliamo un po' come si può dire e non ho finito vi tengo un attimo sospeso perché non mi viene la parola allora su questa immagine diciamo così un po' goliardica per modo di dire nella tavoletta del cesso lascio alle vostre conclusioni pensieri riflessioni su quanto ho detto in questo video vi do appuntamento al prossimo